I consigli di Heidi Quando trovate un animale in difficoltà, cercate di aiutarlo a guarire. Dategli da mangiare, tenetelo al caldo e non rattristatevi. Fatevi aiutare da chi ha più esperienza di voi. Sicuramente saprà come comportarsi. A presto con i consigli di Heidi. Heidi ti aspetta tutti i giorni, la sera alle 8.35 su Cartunito. Anche su App. Grazie a tutti.